Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Nella vita di molti studenti c'è un insegnante capace di terrorizzarli, ma ecco la consolazione. Probabilmente non sarà mai spaventosa come la professoressa di questo caso. Amy Bishop nasce il 24 aprile 1963 a Braintree in Massachusetts, dove vive con i genitori Sam e Judy e il fratello Seth, che ha tre anni in meno di lei. Amy è una bambina intelligente, anzi brillante, ma è anche molto timida e riservata. Suo fratello Seth, che è altrettanto intelligente, è invece l'esatto opposto di Amy a livello caratteriale, perché è socievole ed estroverso. Seth non ha problemi a farsi degli amici, è carismatico e risulta molto popolare. Il rapporto tra Amy e suo fratello è significativo per le dinamiche di questo caso, infatti delinea una certa rivalità. Amy fatica a capire perché per Seth sia tutto così facile, come trovare nuovi amici. Basta che si avvicini alle persone e inizi semplicemente a parlare con loro, mentre Amy non riesce proprio a comportarsi come lui. Seth inoltre è il figlio preferito, quello che viene sempre elogiato. Il ragazzino poi spesso si mette a disposizione anche se non gli è stato chiesto aiuto, per esempio spala la neve dal violetto di casa e aiuta le signore anziane ad attraversare la strada quando trasportano la spesa. Amy vive costantemente nell'ombra di suo fratello. A scuola la sua materia preferita è scienze, ma Seth ottiene risultati migliori anche in questo ambito. Poi Amy inizia a studiare il violino ed è piuttosto brava, ma Seth chiede ai genitori se può prendere lezioni di violino anche lui. Loro acconsentono e Seth diventa addirittura più bravo della sorella. Seth si classifica prima a qualsiasi sfida accademica a cui partecipa, viene sempre notato dalle fiere di scienza organizzate dalla scuola e viene spesso menzionato sul giornale locale per i suoi risultati accademici, giornale che la madre porta orgogliosamente con sé a tavola durante le cene. Lo solleva e commenta dicendo «oh guardate com'è bravo Seth». Seth riceve sempre una cascata di complimenti, mentre Amy, che è comunque una ragazzina intelligente e dotata, viene criticata anche per le cose più insignificanti, ad esempio i suoi capelli. Amy infatti è solita tagliarseli da sola, ma sua madre la rimprovera, le dice di andare dal parrucchiere per farsi fare un bel taglio. Amy fin dall'infanzia sente di dover compiere i salti mortali anche solo per attirare l'attenzione e di dover faticare il doppio di suo fratello per conquistare almeno un briciolo di riconoscimento. Quando riesce finalmente a ottenere l'approvazione dai genitori le dicono «oh Amy, molto bene, ma sai che tuo fratello può farlo un milione di volte meglio?». Fin da piccola Amy è una bambina che cova dentro di sé una discreta rabbia, avverte che il mondo è contro di lei, quel mondo che non le avrebbe mai dato l'attenzione e gli elogi che merita. Infatti crescendo la ragazza inizia a inquadrare tutti quelli che le stanno intorno come nemici. Dopo il liceo Amy frequenta la North Eastern University di Boston, probabilmente sollevata perché è lontana dai genitori e dal suo fratello. Senti che può finalmente camminare da sola e uscire dall'ombra cerchiata da Seth. Tuttavia, quando arriva il momento, anche per lui, di andare all'università, decide di iscriversi proprio a quella che frequenta Amy. I due ormai sono adulti ma la loro rivalità continua. Seth suona ancora il violino ed è bravissimo. All'università il suo carisma lo rende popolare e si fa un sacco di amici. Seth è considerato come il ragazzo più cool del campus mentre Amy è un'emarginata, non ha molti amici, anzi la gente pensa che sia un po' strana. Quando torna a casa Amy si lamenta con i suoi genitori della situazione. Seth le sta ancora una volta spegnendo le luci della ribalta e loro non fanno che preferirlo a lei. Arriviamo al 6 dicembre 1986. Amy ha 21 anni mentre Seth ne ha 18. Quello sembra un giorno come tanti per la famiglia. Il padre Sam va al lavoro, Seth e sua madre Judy escono di casa per sbrigare alcune commissioni, mentre Amy rimane a casa da sola. Intorno alle 14 di quel pomeriggio Seth e la madre tornano a casa e vanno in cucina a sistemare la spesa. Quando sentono Amy scendere le scale e la vedono entrare in cucina con in mano un fucile. I due diciamo che la guardano preoccupati, la famiglia ha solo quell'arma in casa e la tiene per le emergenze e nessuno l'ha mai davvero usata. Tantomeno Amy. Quindi sua madre e suo fratello le chiedono cosa diavolo ci stia facendo con quel fucile in mano e Amy risponde che aveva paura che qualcuno entrasse in casa. Così ha preso il fucile, l'ha caricato, ma ora non riesce a riaprirlo per togliere la cartuccia. In sintesi sta chiedendo il loro aiuto. Sua mamma Judy, ora che sa che il fucile è carico, va nel panico. Ordina a Amy di non puntare quell'arma contro nessuno, ma lei la ignora e continua a camminare in cucina, agita il fucile, poi lo punta verso suo fratello e gli chiede, puoi aiutarmi a scaricare questo fucile? Infine spara. Seth crolla a terra all'istante mentre Amy fugge con il fucile ancora in mano. Inizia a correre per strada attraverso un'area boschiva e poi si dirige verso una concessionaria di automobili. Vi entra con il fucile in mano e lo punta contro i dipendenti, poi inizia a urlare di aver bisogno di una macchina. Inventa su due piedi anche una storia sostenendo di dover fuggire dal marito. I dipendenti però non la secondano e fortunatamente Amy lascia la concessionaria senza sparare a nessuno. Quindi torna a camminare per strada, continuando a stringere il fucile, ma arriva la polizia, che è stata chiamata, e la mette all'angolo. Un agente le punta contro la pistola e le chiede di appoggiare il fucile per terra. Amy tuttavia si rifiuta. L'ufficiale allora si avvicina lentamente e le dice calmati, metti giù il fucile, nessuno si farà del male. Tuttavia Amy non cede. Proprio in quel momento un altro agente arrivato sulla scena riesce ad avvicinarsi di soppiatto dietro ad Amy. Anche lui le sta puntando la pistola contro e ora Amy si rende conto di essere circondata, non a via d'uscita. Quindi alla fine molla il fucile e viene immediatamente arrestata e portata alla stazione di polizia. Nel frattempo a casa di Amy i paramedici stanno cercando di salvare la vita Seth, dato che ha subito al petto una grave ferita d'arma da fuoco. Entrando in casa i paramedici hanno notato una perdita di sangue molto importante, inoltre il fegato di Seth è completamente sfracellato, quindi lo portano d'urgenza al pronto soccorso. Sfortunatamente non c'è niente da fare, dopo circa un'ora dal suo arrivo in ospedale Seth viene dichiarato morto, è stato ucciso da sua sorella Amy. Nella stazione di polizia ben presto giungerà notizia della morte di Seth, questo significa che bisogna avviare un'indagine per omicidio. Quindi quando la polizia inizia a interrogare Amy le rivolge delle domande specifiche come l'hai fatto apposta? L'hai colpito intenzionalmente? Amy risponde che è stato un incidente, tuttavia gli agenti di polizia non le credono. Ci sono troppe cose che non quadrano. Prima di tutto si scopre che quell'arma ha sparato per due volte, dunque prima che Amy colpisse Seth aveva già usato il fucile. Aveva sparato accidentalmente nella sua camera da letto prima che la madre e il fratello tornassero a casa e aveva rotto uno specchio e distrutto un muro. La polizia deduce che qualcosa già non andava, se spari accidentalmente con un'arma dopo non la riprendi e ricarichi per aggirarti tranquillamente in cucina puntandola contro i membri della tua famiglia, no? Un'altra parola importante contro Amy è che era fuggita dalla scena del crimine con l'arma. Che cosa voleva farci? Non è finita qui tra l'altro perché prima di scappare Amy aveva caricato nuovamente il fucile e poi aveva cercato di rubare un'automobile. Ecco perché la storia di Amy è alquanto traballante, nessuno crede alla versione dell'incidente, ma arriva un messaggio agli agenti che stanno interrogando la ragazza in cui c'è scritto di lasciarla andare. Gli agenti sono sbalorditi, stanno interrogando una sospettata di omicidio, perché dovrebbero rimetterla in libertà? Ebbene, presto si scopre che la madre di Amy è una buona amica del capo della polizia. Nella comunità Judy spicca per essere una sua sostenitrice e inoltre aveva anche fatto una donazione a supporto della sua campagna. Judy, dopo la sparatoria, ha telefonato al capo della polizia e ha riferito che è stato un incidente e l'ha visto con i suoi occhi, quindi chiede per favore di lasciare andare Amy, perché non vuole perdere entrambi i suoi figli. Così il caso viene chiuso, non vengono condotte ulteriori indagini. Amy riesce a farla franca dopo l'omicidio di suo fratello e va avanti, continua a vivere la sua vita normalmente. Si laurea e riprende a studiare per un dottorato ad Harvard, poi inizia a lavorare come ricercatrice e professoressa all'università. E' qui che Amy conosce l'uomo che diventerà suo marito, Jim Henderson. A cinque anni di distanza dall'omicidio di Seth, i due si sposano e creano una famiglia. Metteranno al mondo quattro figli, tre femmine e un maschio. Il più piccolo nasce il giorno del compleanno di Seth. Infatti Amy decide di chiamarlo proprio come il fratello che aveva ucciso anni prima. Nel frattempo Amy è diventata molto arrogante con tutti, la famiglia, i pochi amici che ha e i colleghi. Ad Amy non piace nessuno, è infastidita da tutti ed è sempre molto esplicita riguardo alle sue antipatie. In un'occasione, mentre stava lavorando a un articolo per ottenere il dottorato, aveva notato che il suo nome era stato elencato al secondo posto, dato che lei era una delle autrici che l'avevano redatto. Amy però pensava di meritare il primo posto della lista. Quindi, leggendo un altro nome, era impazzita, si era arrabbiata moltissimo. Era andata dall'autore elencato per primo, urlando, chi ti credi di essere? Sciocco, io sono la dottoressa Amy Bishop. Ad Amy piace ricordare alla gente che ha frequentato Harvard e poi il suo atteggiamento intimidatorio spesso. Fa pure piangere le persone. Si comporta in questo modo, tra l'altro, non solo al lavoro con i colleghi, ma anche con i suoi vicini di casa, che subiscono le sue continue lamentele. Bussa le loro porte e li rimprovera per le cose più stupide. Ad esempio, se i bambini sono fuori da casa sua a parlare, giocare e ridere, Amy va su tutte le furie sbraita, spaventandoli. Ma Amy non si lamenta solo con i vicini, bensì con chiunque l'ascolti. E fa ancora di più. Chiama la polizia costantemente. Se un vicino di casa sta facendo leggermente rumore, Amy chiama la polizia. Se dei bambini stanno giocando fuori da casa sua, Amy chiama la polizia. Per qualsiasi piccola disputa di quartiere, Amy chiama la polizia. In un'occasione, infatti, Amy chiama la polizia per riferire che una rock band sta suonando fuori da casa sua, producendo un gran baccano. Quindi ha bisogno che intervengano immediatamente per risolvere la questione. Tuttavia, quando la polizia arriva, trova soltanto un ragazzino che si sta esercitando a suonare la chitarra nel suo garage, cioè nella sua proprietà. Il poveretto, tra l'altro, si spaventa un sacco perché la polizia si presenta a casa sua, dunque convinto che sarebbe stato arrestato semplicemente perché stava suonando la chitarra. Poi Amy si accanisce contro un gelataio. Dovete sapere che i suoi figli sono intolleranti al lattosio, quindi non possono mangiare il gelato. Ma c'è un furgone per la vendita di gelati che gira per il quartiere e passa dalla strada davanti a casa sua. Amy è davvero furiosa. Pensa, come osa questo furgone dei gelati passare davanti a casa mia e vendere il gelato ad altri bambini, quando i miei figli non possono mangiarlo. È così tanto infastidità che Udite Udite presenta un reclamo. Credo di non aver mai sentito un aneddoto così ridicolo, sono onesta. Come si fa a presentare un reclamo contro un furgone dei gelati? Come? Nella sua rimostranza insiste che è ingiusto che il venditore sia passato di lì, visto che i suoi figli non possono mangiare il gelato. E incredibilmente le lamentere di Amy vanno a segno perché riesce a vietare al gelataio di percorrere la strada davanti a casa sua. Follia. Quelle che vi racconto sono le proteste più assurde di Amy, ma credetemi, ogni giorno ne inventa una. È una fervida immaginazione. In pratica si lamenta quotidianamente, lei odia i vicini e, a dirla tutta, i vicini ormai odiano lei. Amy è un incubo. Nessuno vuole starle accanto. Sembra che il suo scopo nella vita sia assicurarsi che nessuno intorno a lei si diverta, anche solo mangiando un gelato. Le persone come Amy si sentano sempre così frustrate da avere la sensazione che il mondo ruoti contro di loro. Tuttavia, dopo aver sparato suo fratello, Amy non è più stata fisicamente violenta con nessuno, fortunatamente. È sicuramente fastidiosa, a tante persone non piace, e li capisco, ma non fa nulla che infranga la legge. Eppure, tutto sta per cambiare. Ci sono due incidenti di cui dobbiamo parlare. Il primo avviene nel 1993. Amy lavora come ricercatrice e riceve una recensione negativa da un suo superiore. Lei si infuria a dir poco perché si considera fantastica, quindi pensa di non meritare questa critica. È così sconvolta sull'orlo di un esaurimento nervoso che decide di dimettersi dal lavoro. Dopodiché la si sente sbraitare contro il suo supervisore dicendo frasi come «l'odio così tanto che vorrei spararlo, pugnalarlo, strangolarlo». Non molto tempo più tardi, il suo supervisore, un uomo di nome Paul, torna a casa dal lavoro e trova un pacco sospetto sulla soglia di casa. Ovviamente è diffidente, pensa che ci sia qualcosa che non va. Paul apre il pacco solo un pochino, ma subito intravede dei cavi. Un tantinello spaventato lo molla e chiama gli artificieri che arrivano immediatamente disinnescano la bomba. Così nessuno rimane ferito, per fortuna. L'unica sospettata di aver inviato il pacco bomba è Amy Bishop. Paul non riesce a pensare a nessun altro che voglia fargli del male. La polizia dunque la interroga, ma non emergono prove sufficienti per dimostrare che era stata lei l'artifice della malefatta. Quindi non viene mai mossa alcuna accusa contro Amy. Si presume addirittura che suo marito l'abbia aiutata, ma come detto non ci sono prove certe. L'altro incidente avviene un sabato mattina del 2002. Amy, Jim e i bambini stanno andando in un ristorante I Hope, una catena americana dove servono pancake. Hanno bisogno di un rialzo per uno dei loro figli e lo chiedono a una cameriera, ma lei si scusa. Il ristorante è molto affollato e hanno appena dato l'ultimo seggiolino a un'altra famiglia. Amy però, l'avrete intuito, non accetta un no come risposta e perde la testa. Inizia a urlare nel ristorante, c'eravamo prima noi qui, meritiamo quel seggiolino, trovacene uno! Poi si alza dal suo tavolo e si dirige verso quello occupato da coloro che hanno ricevuto l'ultimo seggiolino. C'è una donna lì seduta che si chiama Michelle e sta tranquillamente facendo colazione con i suoi figli. Amy le chiede di darle il seggiolino rialzato, ma Michelle si rifiuta visto che lo sta usando per il suo bambino. Amy allora le risponde brutta stronza, dammi quel seggiolino, sono arrivata prima di te. Michelle rimane seduta sul suo tavolo e dice ad Amy, senti, lasciaci in pace perché vogliamo solo fare colazione. Amy però non si arrende, quindi ribatte, stai zitta stupida stronza, non hai idea di chi io sia. È chiaro che Amy ha perso completamente la testa, sta urlando e imprecando contro questa donna. Lo staff del ristorante in realtà interviene, sì, ma in modo molto educato e in più persone ripetono gentilmente a Amy di allontanarsi. Ma d'improvviso Amy torna da Michelle che è solo una cliente seduta al suo tavolo con i suoi figli e la aggredisce. Inizia infatti a darle numerosi pugni a un lato della testa urlando a squarciagola. Io sono la dottoressa Amy Bishop, hai capito? Sono la dottoressa Amy Bishop. Alla fine non so come riescono a cacciare Amy dal ristorante con la povera Michelle che è stata addirittura aggredita fisicamente. A seguito di questo evento Amy viene arrestata, tuttavia alla fine le accuse contro di lei cadono. Non ho idea del motivo onestamente. Anche in questo caso quindi Amy la fa franca, sebbene abbia picchiato una sconosciuta. A questo punto ad Amy viene offerto un nuovo lavoro all'Università dell'Alabama a Huntsville con la prospettiva di una posizione stabile. Questo incarico è il sogno a cui Amy ambisce da tutta la vita, dunque coglie l'occasione al volo. Visto che Amy ha accettato il lavoro tutta la famiglia si trasferisce dal Massachusetts all'Alabama. E vi ricordate che Amy è profondamente odiata dai suoi vicini? Ebbene quando loro vengono a sapere che se ne sarebbe andata definitivamente sono così felici che organizzano un pizza party per festeggiare. Quindi ora Amy è una professoressa di biologia dell'Università dell'Alabama a Huntsville. Tuttavia il carattere dispotico della donna non cambia e i suoi alunni la detestano. Dicono che è molto goffa durante le lezioni, arrogante sì ma anche pigra. Infatti gli allievi sostengono che si limita a leggere il libro di testo. È possibile leggere alcune recensioni rilasciate dagli studenti su Amy online. Alcuni scrivono commenti come una professoressa orribile non mi piace e non la consiglio. O ancora, la dottoressa Bishop è molto intelligente ma è un'insegnante terribile. Amy ha un atteggiamento pessimo con i suoi studenti tanto che viene avviata una petizione per rimuoverla dalla sua posizione. Questa situazione è davvero rara. All'Università dell'Alabama non era mai successa una cosa del genere prima. Uno studente consegna a mano la petizione al Consiglio dell'Università ma la richiesta viene respinta e ad Amy viene permesso di continuare a insegnare. Questa situazione va avanti per anni. Gli studenti sono insoddisfatti degli insegnamenti di Amy ma a lei non importa di piacere a loro, le interessa solo conservare la cattedra. Arriviamo al 2009 quando a Amy tocca presentare la domanda per insegnare per altri dieci anni. In pratica deve riuscire a ottenere la conferma della sua cattedra altrimenti perderà il lavoro. È qui che si evidenza il problema. Lei non piace nemmeno a nessuno dei colleghi. Anche molti altri docenti si sono lamentati di lei, sottolineando il suo comportamento seregolato. È davvero difficile lavorare a contatto con Amy. È prepotente, non rispetta i punti di vista degli altri, si arrabbia per la più piccola cosa. È molto conflittuale. Quindi la richiesta di Amy viene rispinta. E lei è assolutamente furiosa per questo dato che, come sapete, non accetta un no come risposta. È convinta ci sia un'autentica cospirazione contro di lei. Amy ha sempre pensato che il mondo volesse ostacolarla. Assume perfino un avvocato per fare causa all'università, ma tutti i suoi appelli falliscono. Entro la fine del semestre del 2010 Amy non insegnerà più, sarà licenziata a tutti gli effetti. I suoi colleghi in effetti tirano un sospiro di sollievo, pensando che finalmente non la vedranno mai più. Arriviamo al 12 febbraio 2010. Intorno alle 15 Amy Bishop partecipa a una riunione con colleghi e membri del suo dipartimento all'università. Ci sono altre 13 persone in quella stanza, oltre ad Amy. Gli altri professori sono davvero sorpresi di vederla lì perché l'incontro è finalizzato al semestre successivo, quando lei non sarebbe più stata in carica. La situazione è un po' imbarazzante, ma loro partecipano alla riunione comportandosi normalmente, insomma. Solitamente durante questi meeting Amy faceva emergere il suo lato conflittuale, ma stavolta è particolarmente silenziosa. All'interno della stanza c'è una collega di nome Debra Moriarity, che era anche amica di Amy, dato che le due hanno interessi e uno stile di vita simili. Ma siccome pure Debra ha votato contro la candidatura di Amy, ora tra loro c'è un velo di freddezza. Passano circa 40 minuti, la riunione sta andando bene e sta per finire, senza che Amy abbia detto una sola parola, ed è molto strano. Inoltre Amy quel giorno ha con sé una borsa, anche se prima d'ora non l'aveva mai indossata, Amy non era solito andare in giro con la borsa. Quando la riunione volge al termine, Amy si alza e si para davanti alla porta, bloccando a tutti il passaggio. Poi infila la mano nella borsa ed estrae una pistola. Inizia a sparare contro i suoi colleghi, uno per uno. Per prima cosa punta la pistola contro il presidente del dipartimento di biologia, che ha moderato la riunione. Gli spara alla testa, come durante un'esecuzione, uccidendolo all'istante. Poi punta l'arma contro un altro collega, lo ferisce ma non lo uccide. La donna spara ad altri due colleghi in rapida successione, Adriel Johnson e Maria Davis. Entrambi perderanno la vita. Ancora Amy punta la pistola contro l'ennesimo collega. Spara, ma fortunatamente anche lui sopravvive. Questo spietato attacco pensate che avviene nell'arco di 60 secondi. Nella stanza Amy ha seminato caos e terrore. Alcuni colleghi riescono a ripararsi alla svelta sotto i tavoli per evitare i colpi, ma sono tutti completamente indifesi. È a questo punto che Debra, l'unica insegnante che aveva fatto amicizia con Amy, vede un'opportunità di fermarla. La donna, nascosta sotto un tavolo, può vedere le gambe di Amy, quindi gliele afferra cercando di farla cadere. Purtroppo non ce la fa. Amy se la scrolla di dosso e punta l'arma contro di lei. Che ora sta fissando la canna della pistola? Amy prende il grilletto, ma la pistola si inceppa, il colpo non parte. Di nuovo, Deborah vede la situazione come un'opportunità per riprovare a fermare Amy, dato che in questo momento lei è distratta. Quindi inizia a spingerla ancora e ancora, cercando di farla uscire dalla stanza. E ci riesce! La sbatte fuori e chiude la porta, così il resto dei colleghi si alza e interviene a bloccare la porta, in modo che Amy non possa rientrare. Sono tutti terrorizzati al pensiero che Amy, in qualche modo, riesca ad aggiustare la pistola, tornare nella stanza e rincominciare a sparare. Tuttavia, fortunatamente Amy non riesce a far funzionare la sua arma, quindi si allontana con calma dalla scena della sparatoria e va in bagno. Si sbarazza della pistola e si avvicina a uno studente, chiedendo in prestito il suo cellulare. Amy telefona al marito e gli dice «ho finito», poi gli chiede di andarla a prendere al campus. La polizia, che ha già ricevuto numerose chiamate dalle persone del campus che hanno sentito gli spari, è già sul posto. In tanti stanno fuggendo, il panico si diffonde sempre di più e intanto i servizi di emergenza si recano immediatamente nella sala conferenze per soccorrere i feriti. Tre persone sono rimaste ferite e tre persone hanno perso la vita. La polizia viene informata sull'identità dell'assassina, perlustra tutto il campus alla ricerca di Amy e la trova abbastanza rapidamente. Era rimasta fuori dal campus aspettando che suo marito l'andasse a prendere. Amy viene immediatamente arrestata e un fotografo riesce a scattare una foto mentre viene caricata nell'auto della polizia. Dalla foto, non so se l'ho noto solo io, per quanto mi riguarda Amy ha uno sguardo così freddo. Sembra che non stia provando alcuna emozione. La polizia inoltre deve indagare su una potenziale bomba presente nel campus. Alcuni colleghi temono che Amy abbia posizionato una trappola esplosiva nel dipartimento di scienze che ha rinominato bomba per l'herpes. Amy aveva condotto delle ricerche in merito e c'è chi crede che abbia fabbricato una bomba chimica con all'interno il virus dell'herpes proprio col fine di diffonderlo nel campus. Tuttavia la polizia non trova nulla e l'indagine sulla bomba viene chiusa. Amy Bishop viene presa in custodia accusata di tre capi di imputazione per omicidio capitale e tre capi di imputazione per tentato omicidio. Quando la notizia della sparatoria all'università comincia a diffondersi la gente crede che sia avvenuta per mano di uno studente e quindi resta incredula scoprendo che invece la colpevole è una professoressa di mezza età con un dottorato di ricerca conseguito ad Harvard e nessun precedente penale. Sul nessun precedente penale io avrei qualcosa da dire in realtà è vero non ha nessun precedente penale però ha commesso dei crimini tipo l'omicidio di suo fratello. Tuttavia lei non aderisce al profilo tipico di uno studente di massa ma poi inizia a circolare la voce che c'è Amy Bishop dietro la sparatoria ed emergono quegli aneddoti sul suo carattere provocatorio. Le persone scoprono che era una vicina di casa e una collega infernale. Emerge anche quanto successo al ristorante I Hope e si inizia a parlare della morte sospetta di suo fratello. Dopo questa sparatoria proprio le indagini sull'omicidio del ragazzo vengono riaperte e Amy Bishop viene accusata anche del delitto di Seth. Anche Jimmy il marito di Amy viene interrogato sul proprio coinvolgimento nella sparatoria perché si sospetta che fosse a conoscenza delle intenzioni della moglie. Infatti quando lei gli aveva telefonato dopo l'attacco gli aveva detto ho finito. Suo marito non ha rivolto alcuna domanda in risposta a questa affermazione tipo hai finito cosa? Ma alla fine non viene accusato di nulla. Eppure si presume che avesse qualcosa che fare con la bomba che Amy in passato aveva fatto recapitare al supervisore che l'aveva criticata Paul. Il caso di Amy finisce a processo e lei all'ardire di dichiararsi non colpevole sostenendo di non essere in grado di intendere di volere. Tuttavia i suoi legali capiscono presto che questa versione non avrebbe funzionato e alla fine Amy stringe un accordo. Si dichiara colpevole a patto che le venga risparmiata la pena di morte. Amy viene condannata all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. Le accuse relative all'uccisione del fratello vengono archiviate nella convinzione che Amy non sarebbe comunque mai uscita di prigione. E posso capirlo ma non sono d'accordo. Seth merita, meritava giustizia e mi è dispiaciuto molto leggere questa cosa. Non trovo sia giusto archiviare la sua posizione relativa a queste accuse onestamente perché lei Seth l'ha ucciso davvero e l'ha ucciso con un fucile quindi non mi ha fatto molto impazzire ecco questa notizia. Dopo la sparatoria si tiene una cerimonia commemorativa presso l'università dell'Alabama ad Huntsville alla presenza di oltre 3000 persone. Amy ha ucciso Gopi Padilla che era il presidente del dipartimento di biologia un grande leader nella comunità scientifica amato da tutti nel campus. Aveva un sorriso caloroso era un uomo di buon cuore dei modi gentili aveva una moglie e dei figli. Maria Davis che era una professoressa associata di biologia era felicissima quando cucinava o passava del tempo con il suo cane. Anche lei aveva un marito e dei bambini. Adriel Johnson che era un professore associato di biologia a cui piaceva pescare con la sua famiglia adorava passare il tempo libero a organizzare grigliate con i suoi cari gli amici e i suoi vicini di casa. Era una persona così piacevole e gentile solare e affettuosa anche lui lascia una moglie e dei figli. E in conclusione non possiamo dimenticare Seth Bishop il fratello di Amy che aveva appena 18 anni quando è stato ucciso. Aveva tutta la vita davanti a sé un futuro brillante ma Amy glieli ha portati via. Io ho finito di parlare in questo video. Allora questo caso mi ha colpita perché immaginavo che Amy arrivasse a fare qualcosa del genere ma non pensavo che sarebbe arrivata a commettere una sparatoria di massa. Ecco il fatto che abbia ucciso solo tre persone non vuol dire nulla avrebbe potuto ucciderli tutti se avesse voluto davvero. Ora questo caso io l'ho trovato davvero davvero particolare perché penso di non aver mai letto di una persona così odiosa e dispotica. Mai, mai davvero, non credo, sul serio. E dall'altro lato mi chiedo anche come facesse suo marito a sopportarla. Me lo domando se era una rompiballe perdonate il termine di dimensioni enormi con il prossimo non vedo perché non avrebbe dovuto farlo con suo marito. E tra l'altro non viene neanche detto che tipo di madre era. Attenzione io sarei stata molto curiosa di leggere qualcosa in riferimento e rapporto con i suoi figli perché secondo me ci avrebbe dato qualche informazione in più anche su come si comportava con la sua famiglia. Ok? Non solo con le persone esterne, con i vicini di casa, con i colleghi, con gli amici. Non aveva amici ma vabbè con i conoscenti. Ecco. Quindi ora voglio farvi una domanda. Voi cosa ne pensate? Concordate che qualcuno avrebbe potuto fermarla, punirla o riabilitarla molto tempo prima? Io sì. Trovo assurdo che sua madre abbia fatto una chiamatina alla poliziotto capo, insomma, dell'indagine e sia riuscito a far archiviare tutto. Quando Emy aveva commesso un omicidio. Aveva ucciso un ragazzo di 18 anni, suo fratello. Quindi trovo davvero davvero assurdo già questa cosa che non l'abbiano punita ma soprattutto credo che se fosse stata punita per quel delitto tutto ciò non sarebbe successo. Sarebbe stata totalmente diversa la vita di Emy. Ne sono più che certa. E invece mi sembra che ha commesso tanti errori come prendere a pugni una donna che stava facendo colazione per i cavoli suoi, ok, in un locale. E anche lì non è stata punita. Ha fatto troppi errori e non è mai stata punita. E non ha fatto errori di poco conto perché, insomma, non è normale vedere una persona che va in giro a prendere a pugni un'altra persona perché vuole il seggiolino. Ci siamo. Trovo che sia fuori di testa questa cosa. Totalmente fuori di testa. È chiaro che Emy avesse problemi di rabbia. Poi puoi avere un brutto carattere, insomma, ok, però non è normale prendere a pugni qualcuno per un seggiolino. Quindi i problemi Emy ce li aveva ed erano anche, a mio avviso, evidenti sotto gli occhi di tutti. Quindi voi che cosa ne pensate? Sono curiosa di sapere le vostre opinioni. Come al solito ci becchiamo qui nei commenti e nel frattempo vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi. Continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Grazie a tutti!